prepariamo le cotolette di ceci oggi così ci pare che ci mangiamo una cotoletta ma in realtà ci mangiamo i ceci ci serviranno 150 grammi di farina di ceci un cucchiaio di amido di mais 110 grammi di acqua un poco di olio extravergine della paprika dolce se vi piace del rosmarino e del sale per impanare del pane grattugiato ispirazione sempre dalla cucina botanica farina di ceci setacciata amido sale paprika un po' di rosmarino mascoliamo un po' aggiungiamo l'acqua a temperatura ambiente eppure un cucchiaio d'olio mi raccomando seguitemi nei passaggi che è una ricetta difficilissima preleviamo un cucchiaio di impasto e formiamo un hamburger una cotoletta come lo chiamiamo versiamo un filo d'olio e facciamo riscaldare la padella qualche minuto per lato mettiamola su carta assorbente volendo aggiungiamo del succo di limone è buono sembra una cecina più asciutta è buonissima strepitosa non faccio come va già dice perché quando io preparo queste cose voi non mi credete mai è buono